È realmente possibile lasciare il lavoro, cambiare vita e diventare ricchi in soli tre mesi? Assolutamente sì, è il come, te lo spiegherò in questo nuovo video. Partiamo da un presupposto, non sto parlando di miracoli, non sto parlando di criptovalute segrete che ti faranno arricchire e non sto parlando neanche di forex e trading. Sto parlando di un approccio pratico, realmente perseguibile, che io stesso ho applicato con estremo successo e che migliaia e migliaia di persone in giro per il mondo hanno applicato anch'esse con successo. Prima di entrare nei dettagli voglio parlarvi di quando ho deciso di lasciare il mio lavoro per cambiare realmente vita una volta per tutte. Prima ancora di laurearmi ho iniziato a lavorare presso delle grosse multinazionali, e sin da subito ho avuto dei ruoli importanti con delle paghe sicuramente importanti per l'età che avevo e le posizioni che ricoprivo. Tuttavia, nell'arco di circa dieci mesi ho cambiato tre volte lavoro. E non perché venissi licenziato dai miei datori di lavoro, semplicemente perché ricevevo offerte con una retribuzione maggiore da aziende sempre più grandi. E quindi nel giro di pochi mesi ho cambiato lavoro ben tre volte, arrivando a guadagnare una cifra che mia madre non ha mai visto in vita sua. Tuttavia ho capito che ciò che mi faceva soffrire e che mi portava a cambiare continuamente il lavoro non era tanto il guadagno, non è che io volessi guadagnare 500-1000 euro in più, o meglio sì, volevo anche quello. Però, nonostante poi avessi sempre uno stipendio migliore, la costante era la medesima. Ero perennemente insoddisfatto, frustrato e oserei dire praticamente depresso. E ho scoperto a un certo punto, facendo un lavoro interiore, facendomi anche aiutare da una psicologa che mi seguiva, che la mia frustrazione interiore nasceva dal fatto del non essere libero, il dover essere costretto a stare in un ufficio dalle 9 alle 18, addirittura quando lavoravo per una grossa multinazionale del food delivery, dovevo lavorare dalle 10 alle 19. Ciò significa che alle 19, alle 7 di sera io uscivo dall'ufficio, potete immaginarvi il traffico che c'è in Italia, arrivavo a casa alle 8 di sera, sfinito, stremato, mangiavo e andavo a dormire. E poi al mattino si ripartiva, mi svegliavo, andavo in ufficio, lavoravo, alle 19 uscivo, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente vivevo per lavorare e non avevo neanche il tempo poi di spendere quei soldi che guadagnavo. Per non parlare poi di quando la mia ragazza dell'epoca, che guadagnava più di me, decise di regalarmi un viaggio in Liguria, quindi dietro l'angolo, non alle Maldive, pagandomi una casa e dovendo semplicemente poi io guidare. Ha voluto pagare tutto lei, tutto molto bello, se non fosse poi che purtroppo dovevo partire il venerdì e il mio datore di lavoro non ha voluto darmi le ferie. Quindi il solo pensiero che io debba chiedere il permesso per potermi fare un giorno di vacanza con la mia ragazza dopo mesi e mesi di lavoro, mi mandava fuori di testa. Sommando quindi l'insoddisfazione, praticamente la depressione che mi è venuta, le mie grandi abizioni imprenditoriali e le esperienze passate che avevo fatto in qualità di imprenditore, ho deciso di mollare tutto e di dedicarmi ad una grande avventura che poi mi ha letteralmente cambiato la vita e oltre alla mia ha cambiato la vita di migliaia e migliaia di persone sparse per il mondo. Decisi infatti di applicare quello che avevo imparato in una precedente azienda che si chiama Milano Stanze, ovvero a fare homestaging, marketing e via discorrendo per immobili da mettere in affitto. Mentre da Milano Stanze però ho imparato a fare marketing e homestaging per immobili da dare in affitto a medio-lungo termine a studenti e giovani lavoratori, con questa nuova avventura imprenditoriale avevo deciso di applicare tutto ciò al mondo degli affitti brevi, che avevo capito essere più redditizi perché ci sono persone disposte a pagare 100, 200, 300 euro a notte per la stessa casa che di norma con l'affitto classico metti a 1.500 euro al mese. Ho deciso dunque di buttarmi in questo business, il primo immobile sin da subito mi ha permesso di guadagnare cifre importantissime, ho preso il secondo, il terzo, il quarto e il quinto fino ad arrivare ad oggi con un portfoglio di oltre 100 immobili e diversi milioni di euro generati ogni singolo anno dal business degli affitti brevi. E non voglio annoiarti con tutta la mia storia di come sono diventato milionario, ho comprato una villa da urlo, ho costruito un cinema privato, la Ferrari e via discorrendo. Il senso di questo video vuole essere che puoi realmente cambiare vita. L'unica cosa che ti divide e ti allontana da raggiungere questo obiettivo è il fatto che devi prendere una decisione, devi scegliere di farlo realmente, perché là fuori è pieno di persone che lo dicono, parlano, sognano, ambiscono a, ma ciò che ti separa da raggiungere realmente questo grande obiettivo è prendere una decisione, la decisione di provarci per davvero. E il grande vantaggio è che oggi, grazie anche al mio aiuto, puoi farlo senza doverti necessariamente dimettere dal tuo posto di lavoro, che è stata comunque una decisione drastica all'epoca per me, ma puoi iniziare a farlo come, diciamo, business aggiuntivo, business secondario, cioè dal tempo libero che hai dal tuo lavoro nel fine settimana, puoi iniziare a sviluppare questo business. All'epoca io non avevo nessuno, non avevo un mentore, non avevo un corso di formazione, non avevo una community che mi aiutasse a fare ciò, quindi ho dovuto mollare tutto e studiare tutto il Sacro Santo Giove. Oggi è molto più semplice perché hai un metodo testato che puoi replicare, che ti permette di guadagnare, come fanno tantissime persone in giro per il mondo, pur dedicandoci poche ore al giorno. Ora però passiamo al cuore di questo concetto, al cuore di questo video, ovvero avviare un business che non solo ti permetta di sostenere il tuo stile di vita e perché no, anche di elevarlo ad un livello maggiore, ma soprattutto di avere un business che ti permetta di poter vivere la tua vita, avendo del tempo libero da poter spendere con i propri cari, con i propri animali, viaggiando e coltivando le tue passioni. Un qualcosa che io, quando lavoravo da dipendente, non riuscivo ad avere, è un qualcosa che probabilmente anche tu, che stai guardando questo video, probabilmente sarai dipendente di qualche azienda o peggio ancora, schiavo del tuo stesso business che non puoi automatizzare e sono sicuro che tutto ciò non potrai farlo, altrimenti non saresti qui a guardare questo video. Diciamocelo chiaro e tonno. Io personalmente ho avuto successo con gli affitti brevi, ma non necessariamente sarà così per te. Ci sono infatti tante strade. Grazie al video che trovi qua in descrizione che non parla solo di affitti brevi, potrai capire qual è la miglior strada per te per prendere in mano le redini della tua vita e cambiare vita finalmente una volta per tutte. Non solo a parole, proprio con i fatti. Infatti nel video che trovi qua in basso analizzo i 10 business perfetti per cambiare vita. E non parlo di professioni come andare a fare il barista o aprire un bar o una tabaccheria. Parlo di 10 business online. Perché online? Perché è importantissimo trovare un settore in crescita, in forte espansione, dove le barriere per entrare all'ingresso sono basse, dove potenzialmente puoi anche non dover investire del denaro e che ti permetta comunque di guadagnare bene e avere tanto tempo libero. E cosa è migliore di un business online per raggiungere questi obiettivi? Beh, non esiste nulla di meglio. È importante però anche avere delle competenze chiave, così come essere in grado di identificare queste opportunità. E sono tutti i temi che tratteremo appunto nel video che trovate qua in descrizione. Ricordati che ogni passo che compiamo è sempre un passo che ci porta più vicini alla tanto agognata libertà finanziaria. Cosa significa realmente essere liberi finanziariamente? La libertà finanziaria significa non avere un capo, svegliarsi ogni giorno sapendo di essere il padrone della tua vita, liberi dalle catene di un lavoro che odi, ma anche poterti togliere gli sfizi come quando vuoi. Non guardare il prezzo di quel paio di scarpe che tanto ti piace o poter uscire a cena con tua madre, con tua moglie o con tuo marito senza dover guardare necessariamente il prezzo e senza dover scegliere il vino più economico di tutti. Insomma, significa avere abbastanza soldi da non doversi preoccupare di ogni singola cosa. E se ti arriva quella multa, quella bolletta che non ti aspettavi o quella tassa da pagare o semplicemente ti aumentano la rata del mutuo, beh, questo non sarà più un problema. Non per te che hai deciso di prendere in mano le redini della tua vita e di cambiare il tutto una volta per tutte. In sintesi, cambiare la tua vita non è frutto di una giocata al gioco dell'otto, di una schedina al centro scommesse o di fortuna. è frutto di scelte, dedizione e impegno del prendere in mano, come ho detto più volte, le redini della propria vita. A questo punto voglio sfidarti a segnarti degli obiettivi concreti che vuoi raggiungere nei prossimi tre mesi. Che questa sfida potrebbe essere l'inizio della tua nuova vita. Ad esempio, la prima sfida può essere guardare fino in fondo, anche più volte, il video che trovi qua in descrizione. La seconda potrebbe essere scegliere uno di questi business e provare ad approcciarlo in maniera seria. E il terzo, inutile che te lo dica, è realmente iniziare a guadagnare da uno di questi business entro tre mesi. Sono sicuro che la maggior parte di voi non accetterà questa sfida, chiuderà il video e andrà a dormire come ha sempre fatto. Frustrato e probabilmente scontento della propria vita. Al contrario, se sei felice della tua situazione, non ambisci ad avere di più e sei contento lì dove sei, non ti preoccupare. Questo video probabilmente non fa neanche per te. Ma se ti senti invece in quella parte della popolazione che va a dormire scontenta, che è perennemente preoccupata da bollette, aumenti, gas, luce, via discorrendo, beh, ti sfido caldamente ad accettare questa sfida. Per prima di salutarti, però voglio chiarire quest'ultimo punto. Le persone vogliono ottenere tutto e subito. E anch'io ero una di queste. Però ho capito che determinate cose si ottengono con il lavoro, la dedizione e l'impegno. e ottenere tutto e subito è realmente difficile, se non impossibile. E dovete rendervi conto che è possibile ottenere molto di più con un po' più di fatica, persistenza e soprattutto impegno. Infatti, all'interno di questo canale trovate tantissime, oltre 100 testimonianze documentate con i link degli immobili degli studenti B&B Academy che hanno ottenuto risultati grandiosi. Parlo di persone che guadagnano anche centinaia di migliaia di euro l'anno grazie a B&B Academy. Però sapete che cosa c'è di diverso in ognuna di queste testimonianze? Ci sono persone che ci hanno messo due settimane, persone che ci hanno messo tre mesi, persone che ci hanno messo due anni. Però hanno tutte una cosa in comune. Tutti hanno raggiunto dei risultati importanti. E sapete qual è la cosa più importante? Seppur mettendoci dei tempi diversi, seppur avendo avuto magari difficoltà diverse, beh, tutte queste persone hanno in comune il fatto che hanno preso in mano le redini della propria vita, hanno finalmente cambiato ciò che non andava bene secondo loro e oggi sono persone soddisfatte con non solo una disponibilità economica più rilevante rispetto a quella di prima, ma soprattutto hanno del tempo a disposizione per vivere la propria vita. Spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, non perderti il video che trovi qua in descrizione perché ha cambiato la vita di tantissime persone. non perderti il video